Quando arriva il freddo c'è solo una cosa che ti aiuta, il calore. Ed ora c'è uno scaldapiedi per ogni tipo di scarpa. Estrarre il sottilissimo scaldapiedi, applicarlo sul lato inferiore della calza e mettersi le scarpe. L'aria attiva automaticamente lo scaldapiedi. In pochi minuti sprigiona tutta la sua potenza per ore. Il calore si produce in modo del tutto naturale, senza sostanze che danneggiano l'ambiente. Piacevole, leggero e sempre a portata di mano. Basta coi piedi freddi, procurati ora lo scaldapiedi della Heat Company.